Parliamo ancora di pensioni, anzi la tua pensione ed in particolar modo del terzo pilastro. Abbiamo già menzionato il secondo pilastro, ossia la previdenza complementare in una precedente clip, adesso focalizziamoci invece sulla previdenza supplementare, appunto il terzo pilastro. Quest'ultimo rappresenta un insieme raggruppato di strumenti finanziari che consentiranno a chi oggi lavora, nel momento in cui si ritirerà dal mercato del lavoro, di poter contare su risorse finanziarie per far fronte a imprevisti o a proprie esigenze di vita, nel momento in cui la pensione di Stato e quella complementare non dovrebbero essere sufficienti. In tal senso la composizione pertanto di questo giardino di strumenti finanziari dovrebbe essere caratterizzata dalla scelta di strumenti finanziari che abbiano una capacità di rivalutazione decisamente rilevante, soprattutto perché innanzi a noi dovrebbero esserci dai 15 ai 20 anni. Il vantaggio della previdenza supplementare è che lascia discrezionalità a, chiamiamolo il contribuente, nel senso che gli dà la possibilità di accantonare capitale da investire in diversi momenti di mercato o in diversi momenti della sua vita, quindi non è necessariamente obbligatorio versare come ad esempio avviene per un piano di accumulo invece di previdenza complementare che presuppone una frequenza periodica, messile, trimestrale o semestrale. All'interno degli strumenti da prediligere potremmo in tal senso mettere in pole position sicuramente tutte le azioni internazionali che abbiano un potenziale elevato in termini di growth, quindi di crescita aziende, le cui azioni possono rivalutarsi in misura rilevante negli anni a venire e che quindi mi consentono di trasformare un piccolo capitale in un elevato capitale nell'arco di 10, 15 o anche 20 anni. In secondo luogo potremmo prediligere al posto di azioni anche strumenti di risparmio cosiddetto convenzionali, risparmio gestito convenzionali come gli ETF a replica fisica specializzati sull'azionario, soprattutto in quelle zone del pianeta, quelle macro aree geografiche che saranno soggette ad una elevata crescita economica, e quindi una parte dell'Africa e una parte consistente di quasi tutto il continente asiatico, area indiana inclusa. In terza sarebbe in tal senso da evitare invece i fondi cosiddetti comuni di investimento in quanto sono spesso gravati da commissioni di gestione, in alcuni casi molto onerose, e che quindi con un'ottica di lungo tempo vanno ad erodere anche significativamente il capitale complessivamente che si andrà a maturare. Oltre a questi prodotti ne abbiamo degli altri che possono essere definiti dei fondi comuni di investimento ma specializzati per data obiettivo, vale a dire fondi che strutturano tutta l'attività di gestione attiva al fine di ottimizzare gli investimenti con l'ottica di massimizzare il realizzo ad una determinata data finale in modo tale che per quel periodo temporale tutta la massa di gestione che ha in portafoglio il comparto finanziario sia non dico liquida ma investita in prodotti a basso rischio. Quindi gradualmente partire, vi faccio un esempio, con un fondo che ha una dotazione 100% azionario e man mano che si arriva ad una data target obiettivo, che può essere da qui a 10 anni, a 20 anni o 25 anni, il fondo diminuisce strategicamente e tatticamente la propria esposizione nei confronti delle asset class rischiose e si riposiziona magari in prodotti obbligazionari. All'inizio obbligazionari ad alto rendimento, man mano che ci si avvicina alla data obiettivo da obbligazionario, si va al breve termine fino al vero e proprio investimento obbligazionario, cash plus. Infine, come ultimo comparto, come ultimo tassello del mosaico, io ci aggiungerei anche, visto il potenziale di rivalutazione che ha tutto il settore finte, che in particolar modo una parte della criptosfera, anche alcune criptovalute, perché, come abbiamo visto, è molto probabile che alcune di loro, soprattutto quelle che si sono specializzate o che sono nate per gestire i low latency instant payment, ossia le transazioni istantanee, le microtransazioni di pagamento istantanea a commissioni pari a zero, è molto plausibile che queste criptovalute saranno utilizzate nel vivere di tutti i giorni, da qui a 10-15 anni, quindi magari oggi costano qualche centesimo di dollaro e tra 10-15 o 20 anni, proprio per la loro architettura finanziaria, nel senso che hanno una quantità di offerta monetaria limitata, potrebbero invece andare incontro ad una maturazione di valore veramente arrilevante e quindi convertire magari poco capitale in tanto capitale, che è lo scopo principe che deve avere il terzo pilastro, ossia contenitori di rischio, contenitori di strumenti finanziari ad elevato rischio, ma anche con elevato potenziale di rivalutazione, perché non si va ad investire, ma si va a ricreare un piano di accumulo di capitale investito che dovrebbe rivalutarsi sensibilmente in misura molto rilevante, proprio quindi consentendomi di poter ottenere a un determinato momento della mia vita un importo, un capitale da cui attingere per far fronte ad esigenze di vita legate magari proprio all'uscita dal mercato del lavoro, sia di forma obbligatoria che di forma volontaria. Trovate come sempre nella nota informativa della clip ulteriori argomenti di approfondimento legati al tema del terzo pilastro.